Musica La sorella La sorella La sorella Tre gingolini di quelli carini Li abbiamo preparati, cantiamoli Ma lo dice come se sapesse cantare sul serio, vedremo un po' Paolo Urmi, nostro maestro, ci mandi un po' di musica per cortesia Usi lei, usi lei, c'era grei e vedrà Che la casa più pulita, più pulita sarà Usi lei, c'era grei, c'era grei e vedrà Che nessuno più ci volerà Eeeh, se vuoi bere un prodotto genuino Bevi aranciata San Pellegrino Bevi aranciata San Pellegrino Voglio la caramella che mi piace tanto E che fa du 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 fur Ma non è male però Piambretti eh È già finita eh È già finita Della RAI adesso c'è una sorpresa per Raffaella Perché abbiamo parlato del primo spot Andato in onda nel 57 Era il gennaio Faceva freddo Erano le tre del pomeriggio E adesso invece vediamo niente poco di meno Che l'ultimo spot di questa serie fortunata Era il 1977 Il personaggio forse lo riconosci Prego Ja Pen Presenta Super Spettacolo di Capodanno Con Raffaella Carrà Perché secondo corpore .. après la nuova E che dice E che dice Ed eccoci nel 1977, si è chiuso un ciclo, vent'anni di Caroselli Stock. Auguri di buon anno e sereno lavoro, dalla Stock. Raffaella, te lo ricordavi questo spot? Lo spot, sì, la chiusura, che avessi chiuso Carosello, non me lo ricordavo, lo confesso. Comunque devo dire che non sei cambiata, posso farti questo complimento, cara? Ma come gentile, un vero gentleman, proprio. E canteremo insieme dei jingles, più alta la musica, grazie. Alla sera, la mattina, una mano in porcina c'era. Lombardi, c'è il simone, un belato e c'è il simone. Con lo stesso magnifico. E lo già ti do. C'è il simone, un belato e c'è il simone. Come senti l'oggi di dove, dove, dove la donna. Io non lo so. Olè! Questo è un piccolo omaggio ai pubblicitari che sono presenti questa sera. E allora a questo punto noi vi ringraziamo, vi salutiamo. Grazie a voi e buon lavoro a tutti i colleghi presenti. Certamente, questo è giusto. Grazie. Grazie, arrivederci.